Buongiorno, ben ritrovati. Appuntamento di mattino 6 di martedì 28 agosto 2018, la nostra rassegna stampa, la lettura dei quotidiani oggi in edicola, le prime pagine dei giornali abruzzesi. Partiamo dal centro, l'edizione di Pescara, vedete il titolo di apertura, muore a 49 anni durante la vacanza, spoltore Maria Grazia Donofrio si trovava in Sicilia, oggi l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Andiamo a centropagina, città Sant'Angelo, il borgo raccontato da Forbes, piace tanto ai turisti, il borgo eletto tra i primi dieci al mondo dal portale americano. Sicuramente sono stati tantissimi anche in quest'estate i turisti che hanno visitato soprattutto la parte vecchia, il centro storico di città Sant'Angelo. E poi vediamo le cronache, Pescara, addio a Marco, ucciso a 24 anni dalla leucemia, poi Pescara ancora termina al bus, paura tra i passeggeri dopo lo stupro. E poi pronto soccorso affollato, l'ospedale di Pescara, pazienti trasferiti altrove. Poi questa drammatica notizia che arriva dal Messico, Giovane Chietino ucciso in Messico a 33 anni, trucidato sulla moto con 5 colpi di pistola, la pista del delitto passionale. In alto vedete effetto a Genova in Abruzzo, sull'asse attrezzato un cavalcavia, rischio crollo, il prefetto di Chieti convoca una riunione urgente per fare il punto della situazione dopo l'incontro, la riunione che c'era stata già qualche giorno fa. E poi verso le elezioni regionali, vedete poi sempre nella parte alta della pagina, per candidarsi proprio alle prossime elezioni regionali, sono pronti a dimettersi sette sindaci abruzzesi. Ucciso in moto con 5 colpi di pistola, siamo alla prima pagina di Chieti del centro, ripatiatina piange Fabio Melanitto, 33 anni, trucidato a città del Messico. Vedete poi a centro pagina il calcio in primo piano, il calcio dilettantistico abruzzese perché l'eccellenza, il primo campionato della nostra regione di calcio partirà domenica, sono stati diramati i calendari per il Chieti, gara a Casalinga. Con il Martinsicuro. Vediamo anche le cronache, ancora Chieti picchia la moglie perché non gli stira i boxer, San Salvo, Gang Rapina, la farmacia all'orario di chiusura, Casoli in auto contro la caserma dei carabinieri. E poi a Casalbordino cade dal balcone, muore dopo un mese, non ce l'ha fatta il 38enne sorpreso a rubare, a Palazzo Magna Rapa. Vediamo anche la prima pagina del centro, edizione di Teramo, rally d'Abruzzo, il no è definitivo, la gara salta, non c'è più tempo per chiedere nuovi permessi al parco. E poi l'associazione di Roseto fanno più di 300 coperte per i terremotati. Marchigiani, ucciso e bruciato altri sei mesi per le indagini, proseguono dunque le indagini per far luce sulla morte dell'artigiano di Tortoreto Demetrio di Silvestri, il 56enne, ritrovato carbonizzato. Le indagini sono a cura della procura di Ascoli Piceno, inchiesta sull'acqua, i periti del PM, criticità sotto il Gran Sasso. E poi traffico in tilt, anche quella di ieri, è stata una giornata difficile in A14 per il controesodo, tanti gli incolonnamenti, vedete questo titolo, il caos in A14 paralizza anche Martinsicuro. Vediamo anche la prima pagina di L'Aquila Avezzano sul Mona del centro, il perdono riconquista con le maggio, L'Aquila prima indulgenza con messa in Basilica dopo dieci anni, oggi il corteo. E poi L'Aquila calcio, in questo caso la squadra si raduna in attesa di conoscere quale sarà il campionato di competenza. Avezzano la farmacia comunale finisce all'asta sul Mona, statua di Ovidio impacchettata per i restauri. E poi anche sulla prima pagina dell'Aquila del centro ritroviamo la notizia del giovane teatino ucciso a città del Messico. E poi la cronaca ci porta invece a Celano, vedete in basso, dopo la festa trovano la casa svaliggiata, la scoperta dei proprietari di ritorno dal concerto di Fiorella Mannoia. Poi ci sono due, un titolo in particolare che riguarda il teatro, Federico Perrotta a Chieti, il mio Nerone, tutto da ridere. Vediamo la prima pagina del messaggero Abruzzo, stupro il caso in prefettura, poi vedete più in basso un altro titolo, finanze in comune, c'è un'inchiesta sull'ex cinema Eden. E poi vediamo anche qualche altro titolo, in alto Pescara ora vinci, in casa Sansovini passa al Modena. Vediamo la prima pagina del quotidiano La Città, indagato per omicidio stradale, Martinsicuro era ubriaco, il giovane alla guida dell'auto in cui ha perso la vita, l'amico 27enne. Poi anche sul quotidiano La Città come sul centro ritroviamo la notizia del rally cancellato, il no per vincoli insuperabili, carenze istruttorie e tempi stretti. Vediamo qualche altro titolo, ludopatia, sale slot, occhio alle nuove norme previste a novembre. Poi dall'altra parte della pagina parlano gli architetti disabili, ancora troppe le barriere nelle città del Terramano. Roseto degli Abruzzi riprendono i lavori contestati della pista ciclabile. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, siamo all'edicola nazionale, ripartiamo dal Corriere della Sera. Concessioni tutte da rifare, il ministro Toninelli, nuovo ponte con il timbro dello Stato sia a fincantieri e cassa depositi. Toninelli che è stato ascoltato in commissione, autostrade nelle carte, finora segrete, i ricavi garantiti. Vediamo anche un altro titolo che riguarda il Vaticano, il Papa, i dossier, quattro nodi per il Vaticano. No, perché ci sono polemiche anche dopo le dichiarazioni di Monsignor Viganò nelle ultime ore. Dunque, come possiamo vedere anche da questo titolo, ci sono dei nodi non facili da sciogliere per il Vaticano. Siamo a Repubblica, autostrada e gli accordi segreti, Lega ai 5 Stelle, no allo Stato padrone. Si parla sempre ovviamente della tragedia di Genova. Vediamo poi in basso altri due titoli, manca un preside su quattro, 80.000 precari in cattedra. La scuola comincia in salute e poi anche su Repubblica, ne parlavamo qualche istante fa, le accuse di Viganò, il Vaticano sul dossier shock, una vendetta della destra per cercare di fermare il Papa. Vediamo il fatto quotidiano, reddito minimo nelle 2019, anche violando il tetto del 3% di deficit. Intervista al vice premier Di Maio, che parla della legge di bilancio. E poi la vicenda della nave 18, 100 migranti in un comune vicino a Roma, prime proteste. Vediamo a centro pagina, autostrade, la finta trasparenza nasconde i numeri. Su Genova, leggiamo qui dal fatto quotidiano, vediamo il messaggero nazionale. Genova, la battaglia del ponte, Di Maio lo costruirà fin cantieri, dice il vice premier, ma il governatore Toti, autostrade, faccia, viadotto e gronda. Vediamo poi più in basso, sfida all'Unione Europea, mossa del governo, scontro sui miliardi a Bruxelles. Il manifesto, Genova, autostrade, non farà il ponte, la concessionaria brucia del governo e pubblica, gli allegati segreti. E poi coppia in nero, Salvini sfida il PM, l'inchiesta sarà un boomerang e accoglie. A Milano, il premier ungherese Orban, leader dei sovranisti europei, isolata in Europa, la destra xenofoba punta a creare un fronte anti-Unione Europea, la sinistra in piazza contro i muri. E per i migranti, Libero, valanga di firme, prosalvini, tutti con Matteo, migliaia di italiani, in poche ore a sostegno, questa iniziativa di Libero, a sostegno del vice premier per chiedere a Mattarella di proteggere il nostro voto, scride Libero, dalle interferenze dei giudici. Vediamo un'altra pagina, un'altra prima pagina, in questo caso del quotidiano di Napoli il mattino, il maxipiano della chiesa per i migranti, ospitarne 40 mila in più solo in Italia e coinvolgere anche i vescovi europei. E poi scuole, il 60% non è in regola, la rivolta di sindaci e presidi. Vediamo anche il sole 24 ore, bonus investimenti, proroga con il riordino per premiare le amministrazioni virtuose. E poi, nuovo ponte, ne parlavamo anche prima, scontro Toti, governatore della Liguria, Di Maio, vice e premier e ministro del governo. Il quotidiano, la verità, dopo lo scoop della verità, dieci domande a Papa Bergoglio, Francesco rifiuta di rispondere al memoriale di Monsignor Viganò sulla lobby gay nella chiesa, ma quel documento contiene nomi e circostanze precise, vittime e fedeli. Scrive la verità, hanno diritto di sapere. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano torinese La Stampa, fincantiere, cassa depositi e prestiti per rifare ponte Morandi. E poi a Torino la cappella della Sindone, pronta a riaprire dopo 28 anni. In basso ritroviamo anche sul quotidiano torinese la notizia dell'incontro tra il premier ungherese Orban e Salvini per, leggiamo qui dal titolo, sigillare l'Europa. Vediamo anche la prossima pagina che è quella del tempo, altro quotidiano romano, Castelli romani di rabbia, rivolta a Rocca di Papa, proteste per l'arrivo degli sbarcati dalla nave. Diciotti, siamo al secolo d'Italia, guerra Italia-Unione Europea, scrive il quotidiano vicino alla destra. E poi in basso chi ricrostruirà il ponte, lo Stato o il privato? E poi Salvini rifiuta l'immunità, voglio andare a processo, dice il vicepremiere, ministro degli interni indagato. E poi Meloni attacca i grillini sui migranti, come il PD. Secolo XIX, il quotidiano di Genova, ponte, Toti non accetta il diktat del Movimento 5 Stelle, il governatore della Liguria dice Di Maio vuole fincantieri per ricostruirlo, ok, ma autostrade paghi e presenti. Il piano, poi vedete Salvini-Orban, alleanza in vista per blindare i confini europei, oggi l'incontro a Milano. Vediamo avvenire il quotidiano della CEI, l'Italia che non si chiude, le diocesi in campo per accogliere i profughi eritrei, i bassetti ad avvenire, risolta l'emergenza. Con carità, e poi vedete in basso il Papa, gli abusi una piaga, servono verità e giustizia. E poi, tornando alla vicenda del crollo del viadotto di Genova, il ministro Toninelli insiste a rivedere tutte le concessioni. Questo era l'ultimo quotidiano dell'edicola nazionale a venire. Possiamo tornare al centro e restare indirettamente a parlare della vicenda drammatica di Genova. Vedete, asse attrezzato, ponte a rischio crollo, l'effetto Genova anche in Abruzzo. Il prefetto di Chieti convoca infatti d'urgenza Anas, province, comuni e consorzio industriale per il cavalcavia della vergogna. Ora sul colosso dimenticato si muove anche l'avvocatura. E poi in basso a Pescara, così ti taglio 40 alberi, via tutte le piante per fare il nuovo marciapiede. Vediamo di saltare ovviamente le pagine di cronaca nazionale che abbiamo visto poco fa sui vari quotidiani oggi in edicola con le varie prime pagine. Invece siamo alla pagina che riguarda la cronaca regionale, in particolare le elezioni amministrative in Abruzzo perché ormai la campagna elettorale è praticamente iniziata e sono pronti a dimettersi i primi sette sindaci di centri della nostra regione. I sicuri sono Florindi a Città Sant'Angelo, Quaresimale a Campli e poi Montepara, i quasi certi di Primio e Luciani di Chieti e Francavilla, ma c'è anche un presidente di provincia. In questo caso lo vediamo nella foto in basso a destra il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco. E intanto il senatore D'Alfonso, ex presidente della regione, si rivolge alla procura, deposita l'esposto denuncia contro il coordinatore regionale della Lega, Bella Chioma. E poi rebus elezioni, la data sarà decisa a settembre. Sapremo dunque quando si tornerà a votare in Abruzzo per l'elezione del nuovo presidente della regione. Siamo le pagine di Pescara del centro, tragedia in Sicilia, donna muore nel sonno a 49 anni, Maria Grazia Donofrio di Spoltore era in vacanza con la figlia e un'amica, oggi l'autopsia, il fratello Domenico. E poi in basso un'altra notizia luttuosa, addio di familiari e amici a Marco, stroncato dalla leucemia a 24 anni. Oggi si terranno i funerali nella chiesa di Via Cavour a Pescara. Cambiando argomento i giudici riaprono lo stabilimento balneare Penelope a mare, chiederò i danni, dice il titolare. E poi l'allarme dopo lo stupro di Pescara, i passeggeri del terminal, qui abbiamo paura, rabbia e incredulità tra la gente in attesa dei bus. Blasioli dice recinteremo l'area, ci sono già stati lavori per abbattere le siepi, proprio nella Pinettina dove sabato scorso si è consumata questa triste vicenda. Il senegalese Incella si dichiara innocente, l'uomo arrestato per violenza sessuale, oggi comparirà davanti al giudice e Gobadia della CGL parla di clima odioso nei confronti della comunità senegalese a Pescara. Allora su questa vicenda possiamo a questo punto andare a vedere il servizio che fa un po' il punto della situazione. L'assunzione di alcol sul posto da parte della donna di 39 anni violentata sabato pomeriggio nei pressi della stazione di Pescara da un senegalese di 61 anni poi arrestato dalla polizia avrebbe provocato lo stordimento della stessa anche a causa di un effetto combinato con i medicinali che assumeva abitualmente e quanto emerge dalle indagini della polizia che sta ricostruendo in maniera minuziosa anche con l'ausilio di alcune testimonianze e filmati di telecamere quanto accaduto sabato scorso. Come già appurato precedentemente dagli uomini diretti dal capo della squadra mobile della questura di Pescara Dante Cosentino, la 39enne era arrivata in zona stazione per aspettare la sorella di ritorno da Roma. Proprio nei pressi del terminal bus la donna, mentre aspettava già da un po', la congiunta ha conosciuto il suo guzzino, sempre secondo le prime risultanze investigative l'uomo e la donna avevano bevuto del vino che per la vittima, già le prese con alcune problematiche di salute che la costringevano ad assumere farmaci, avrebbe fatto effetto portandola ad uno stato di intontimento prima di essere violentata. Quando gli agenti e i soccorritori sono arrivati sul posto, la 39enne era in uno stato confusionale, portata in ospedale per accertamenti sul corpo, i sanitari hanno notato anche delle abrasioni che potrebbero essere compatibili con la violenza subita. La donna, ascoltata poi successivamente dagli inquirenti ai quali ha sporto querela per l'accaduto, ha detto di ricordare poco, parlando però di un contatto con l'uomo. Nei prossimi giorni saranno resi noti i risultati degli esami, come previsto dal protocollo antiviolenza a cui la 39enne è stata sottoposta. Dopo i tragici fatti di sabato pomeriggio, l'amministrazione comunale è già a corsa ai ripari, avete eliminato tutte le siepi dei giardinetti dell'area Terminal Bus e soprattutto nelle prossime ore ci sarà un sopralluogo anche con i tecnici Enel per potenziare ulteriormente l'illuminazione nella zona. Siamo intervenuti nella zona, abbiamo tolto le siepi per fare in modo che l'area del Terminal Bus possa diventare un'area visibile in qualsiasi momento e da qualsiasi angolazione. L'amministrazione è vigile su questa cosa, se dobbiamo garantire ulteriormente, come vogliamo fare del resto, anche la presenza costante dei vigili urbani che stando all'interno dell'area di risulta possono vedere meglio questa zona del Terminal Bus, ma anche Piazza Santa Caterina o l'inizio della strada parco che sono anche lì, diciamo, zone abbastanza calde, opereremo in questo senso. E poi stiamo pensando anche a una vigilanza notturna, cioè quando gli operatori di Pescara Parcheggi vanno via per fare in modo che chi va a parcheggiare, anche se gratuitamente, all'interno dell'area di risulta nelle ore notturne possa farlo in sicurezza. Stiamo pensando anche a un presidio della Polizia Municipale, inizialmente da insediare all'interno del luogo dove si vendono anche i biglietti degli autobus e poi per trasferirsi dopo una piccola manutenzione anche all'interno dei silos che sono nella parte centrale dell'area di risulta. Noi, la comunità, è sotto show da quando hanno letto quella cosa che un senegalese di 61 anni ha violentato una donna, appena un giorno hanno detto che non può essere perché lo conoscono abbastanza bene questo signore. Se andate a vedere lo stato fisico, sociale, anche metà di questo signore non è proprio in grado a violentare, potrebbe essere una litte, non a violentare più nel giorno. Comunque la comunità stiamo valutando cosa da farsi. E cosa potreste decidere di fare? Noi lo sappiamo ancora, valutiamo tutte le cose. Restiamo sulle pagine del centro e in centro a Pescara, siringhe tra i giochi del Parco Florida, l'altra faccia del degrado in città, vedete le foto e poi i commercianti protestano e chiedono un consiglio comunale in piazza Salotto, segnalano anche telecamere non funzionanti. Intanto oggi in prefettura ci sarà una riunione sulla sicurezza. Parliamo di reparti sovraffollati, siamo all'ospedale di Pescara in questo caso. Asle, pronto soccorso in emergenza, bloccati gli accessi. Oggi il consiglio comunale straordinario con i vertici sanitari discuterà il caso di geriatria, il nuovo modello organizzativo. Battaglia del consigliere comunale Pignoli per l'ospedale è stato il primo firmatario, il consigliere Pignoli, della richiesta di convocazione di consiglio comunale straordinario sulla questione geriatria dell'ospedale di Pescara. Presentata la ginestra, l'iniziativa dei giovani per la nascita dell'associazione che riunisce la sinistra sul territorio. Invece centrodestra, piano della riserva, denunciano gli esponenti di centrodestra. Quattro anni di ritardi. Il rilancio del quartiere. Siamo a Rancitelli, 25 associazioni unite contro il degrado. Pronto il pacchetto di interventi, sfratti, pulizia e centri di aggregazione. Ieri c'è stata questa riunione, questo incontro presso la ludoteca Thomas Dezzi di via Lago di Capestrano. Siamo a Montesilvano. Il piano per la differenziata, rifiuti, centro di raccolta per i residenti del colle. La giunta comunale approva il progetto per la realizzazione della struttura. E poi Onda Verde, surfista in difficoltà, soccorso da quattro bagnini. E poi ancora, comitato riprendiamoci Montesilvano al via Le Ronde sugli autobus dopo l'aggressione all'autista. In basso, siamo sempre a Montesilvano. Premiate 27 attività storiche con targhe d'oro e d'argento. A Città Sant'Angelo, l'estate dopo Forbis, il borgo attira turisti, ma mancano gli hotel. I commercianti, 30% in più di visitatori, occorrono però più strutture. Dunque tantissimi turisti anche quest'estate a Città Sant'Angelo, tra i borghi più belli del mondo, secondo la rivista Forbis. Ma la marina rimane a bocca asciutta, piazza deserta e strade vuote. I negozianti in coro non si fa nulla per rivitalizzare la zona, parlano i commercianti della marina. Da Città Sant'Angelo ci spostiamo a Francavilla al mare. Allarme e sicurezza al foro servono ronde e monitor. I cittadini denunciano da mesi. Siamo vittime di raid notturni. E' a Sportore da giovedì la festa in onore della Madonna del Popolo. Andiamo in basso. Ricordi e targhe per i campioni del calcio giallorosso. La Juniors Francavilla si ritrova dopo 52 anni. Siamo nella pagina della provincia di Pescara, le aree interne della Vestina e della Val Pescara. In alto la cronaca sconto frontale, grave una donna ferita a manoppello. E poi terremoto a penne, centinaia di edifici. Sono ancora inagibili e mancano i rimborsi dell'emergenza nella zona di Farindola. Andiamo più in basso. Siamo a Popoli. Nuova luce per Castello Cantelmo. Turisti nel maniero appena ristrutturato dal comune di Popoli. Siamo alla pagina di Chieti del centro. Questa drammatica notizia che arriva da Città del Messico ucciso sulla moto con cinque colpi di pistola. Fabio Melanitto, 33 anni, direttore di discoteca, affreddato davanti alla nuova compagna. Aveva chiesto la residenza a Ripa Teatina. Sette abruzzesi ammazzati in cinque anni è la lunga lista di quanti hanno perso la vita nei paesi del centro e del Sud America tra il 2016 ed il 2017. E poi la cronaca ci riporta nella nostra regione a Chieti, picchiata perché non gli stira i boxer, marito violento allontanato dalle forze dell'ordine dalla casa di famiglia. Poi a Guardia Grele, ladri di Fiat Panda scatenati, tre auto rubate in dieci giorni. Proseguiamo, siamo a Casalbordino, si lanciò dal balcone, muore dopo un mese, non ce l'ha fatta il 38enne sorpreso dai carabinieri a rubare nei locali della biblioteca. La procura dispone l'autopsia e poi tempesta in barca, l'olimpionico Scarpa costretto a fermarsi. Andiamo più in basso, vasto paura a puntaderci circondato da 20 cinghiali mentre scatta foto nella riserva. E poi la cronaca invece ci porta a San Salvo, vedete a fondo pagina, in tre con la pistola rapinano la farmacia Bottino di 300 euro. Siamo a Terramo, l'allarme per l'acqua, i consulenti dei PM al Ministero, criticità nel sistema Gran Sasso. E poi Torricella, il sindaco, ricostruzione leggera, datela ai comuni, chiede il primo cittadino. E poi ci spostiamo a Martinsicuro nella parte nord della nostra regione, code in A14, traffico caos. A Martinsicuro centinaia di automobilisti escono dall'autostrada, intasati la Statale 16 e tutto il centro abitato. È stato un weekend da bollino quasi nero per il traffico in tutto il paese, per il controesodo. Restiamo a Terramo in provincia, rally d'Abruzzo, addio, tempo scaduto. Nella riunione con i sindaci, il presidente del parco dà la disponibilità a valutare il nuovo percorso, ma ormai è tardi. L'assessore regionale accusa, assessore D'Ignazio, pressioni esterne per il diniego. Di Silvestre, altri sei mesi per trovare i killer, Tortoreto, la procura di Ascoli ottiene la proroga per le indagini sull'artigiano ucciso e bruciato. E poi a Giulianova, strisce blu, estate di proteste, macchinette spesso rotte e non danno resto. I turisti lamentano continui disagi. Siamo a Silvi, i conti non tornano. Scordella, il tesoretto c'è solo sulla carta, dice il sindaco di Silvi. Andrea Scordella, avanzo di oltre un milione, assorbito dall'anticipazione di tesoreria. Il saldo di cassa è negativo per 107 mila euro, dice il sindaco. Niente vigili di sera, poi a Silvi. Il comandante vuole querelare il cittadino che protestava da Silvi. Ci spostiamo a Pineto, dunque qualche chilometro più a nord. Grande successo per lo sbaracco, l'iniziativa dei commercianti. A Pineto ha richiamato in centro tanti cittadini e turisti attirati dagli sconti. Andiamo poi ad Atri. Degrado nel Terminabus in zona ospedale, come testimoniato da questa foto. Siamo all'Aquila per parlare della perdonanza e del giubileo aquilano. La perdonanza riconquista Collemaggio. Oggi strutturata e proprio per questa importante manifestazione ci saranno bus navetta gratuiti da e per il piano case con tutti gli orari dei vari attraversamenti. In basso si parla invece di inizio dell'anno scolastico. Liceo, le rassicurazioni bloccano la protesta. Il consigliere provinciale smentisce i doppi turni. Trovati moduli provvisori per gli studenti. Si avvicina il suono della prima campanella anche nella nostra regione per quanto riguarda il via al nuovo anno scolastico. Andiamo avanti, sempre dalle pagine del centro. Siamo nella Marsica. Vezzano, dopo dieci anni di attività, messa all'asta la farmacia comunale e poi la cronaca ci porta a Celano. Rientrano in casa e la trovano svaliggiata. Ancora poi a fondo pagina, impacchettata la statua di Ovidio. Al via i restauri pagati da Bevilacqua, sindaco canadese originario di Sulmona. Siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo fermarci per qualche attimo e poi tornare insieme per la seconda parte di mattino 6 e andare a leggere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero e del quotidiano La Città. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6. Avevamo terminato di leggere le pagine del quotidiano Il Centro. Siamo al messaggero, l'inserto Abruzzo, pagina 2. menze scolastiche, vedete il titolo negli asili abruzzesi, arriva in tavola il pesce azzurro. E poi autostrade a 24-25, Vacca insiste, sottosegretario di governo del Movimento 5 Stelle, rivedere la concessione. Poi in basso, a Dortone, il primo settembre, prima festa della Lega. Siamo a Pescara, stupro o no alla caccia all'uomo. Proseguono le indagini per chiarire quanto accaduto sabato scorso nelle zone della Pinetina, delle aree di risulta. Abbiamo visto anche il servizio. Intanto partono i lavori del mercatino etnico. In basso, il Tar fa riaprire Penenope a mare, ha colto il ricorso della titolare. Vicenda chiarita, ma abbiamo subito gravi danni, dice la Caldarelli. Andiamo avanti con un'altra pagina del messaggero. Siamo sempre a Pescara, sulla riviera. Sud ripartono le ruspe, completamento del primo lotto e avvio del secondo con nuova Pineta. E poi incidenti con ferite e code su Tiburtina e Assattrezzato. Ieri ferita una 62enne, morta invece la sera precedente, l'anziana che era stata coinvolta nell'incidente di domenica sulla A14. E poi truffa sventata, paga con soldi falsi al mercato. È stata beccata Confindustria in pressing sulla regione per la ZES. Appello a Lolli dal direttore di Confindustria Luigi Di Giosafatte. Il piano va definito e avviato prima delle elezioni. Siamo ad un'altra pagina dell'area metropolitana di Pescara. In questo caso siamo a Montesilvano. Una vita di lavoro in una targa. Maragno, il sindaco. Premia 27 attività storiche di Montesilvano. Il record di Tacconelli. E poi un respiratore in dono dal prefetto alla medicina dell'ospedale di Popoli. Siamo all'Aquila. Si parla di scuole. Il liceo Cotugno a settembre si torna sui banchi nei MASP. E poi Ponte Belvedere. Residenti divisi sulle demolizioni. E poi ancora piccolo test Confcommercio funzionano gli eventi d'estate. Vediamo poi una notizia che arriva da Pagliare di Sassa. Cronaca lite tra condomini. Finisce a coltellate. Infine a rischio e in lutto. Folla per l'ultimo saluto. Valentina, la ragazza morta per una tragica fatalità. La 724esima edizione della perdonanza celestiniana. Piedi a Collemaggio nel segno del perdono. Corteo di apertura della Porta Santa. Si rinnova una tradizione secolare. Poi vediamo altre notizie sempre sullo stesso argomento. Il programma di oggi. Premio Rotary, perdonanza, la consegna in comune e incontro con le città gemellate. Poi vigilia della prima da Cardinale Petrocchi in visita ai monasteri. Vediamo anche la pagina di Avezzano sul Mona del messaggero. Pista ciclabile, proteste e incidenti. Lecce dei Marsi, Bocconi avvelenati ora indagano i carabinieri. E poi Valleroveto e le automobili d'epoca sfilano vicino al Liri. Andiamo nella parte centrale bassa della pagina. Sul Mona i servizi del comune. Basso il gradimento. Avezzano. Strade invase dai rifiuti. Puliscono i residenti. E poi la statua di Ovidio. Tre mesi per il restauro. Abbiamo visto anche prima la notizia dal centro. E ad Avezzano scoppia la guerra sui social tra i politici. Siamo alla pagina di Echieti del messaggero. Blitz della finanza. In comune inchiesta sull'ex Cinema Eden. Acquisiti documenti sull'edificio chiuso da decenni nel cuore del centro storico. E poi Ermalmeta e Brignano in 7.000 alla Civitella. Un grande successo. E poi Guardia Grele alla mostra dell'artigianato Visitatori da ben 38 nazioni. E poi questa notizia in basso. Morì contro Muro. La causa fu un sorpasso tra due moto. L'evento segnalato negli atti della stradale. Alvia. Oggi la perizia. Andiamo a vedere l'altra pagina che riguarda Lanciano Vasto Ortona. Un nuovo letto per i bimbi di pediatria all'ospedale di Lanciano. E poi Ortona. Passeggiata orientale. Alvia. I lavori. E poi in basso. Andiamo nell'area Frentana. Sfonda con l'auto il cancello dei carabinieri. E fugge. Ultime due notizie che arrivano in basso da San Salvo. Tagliati 10 tigli a San Salvo per la pista ciclabile. E poi la cronaca. Pistola in pugno. Rapinano. La farmacia. Andiamo a vedere la pagina che riguarda Teramo. Dal messaggero. Anche il rally. Può migliorare l'offerta turistica provinciale. L'assessore regionale al turismo di Ignazio rilancia la formula dopo il contestato no a quello del Gran Sasso. E a Teramo. Giro di vite sulle slot e sale scommesse. E poi Castellalto. Malfatti e Lezziero in concerto. E poi ancora verifiche post-sisma con tempi troppo ridotti e polemiche. E poi ancora sicurezza dei ponti in carico ad una ditta esterna. Andiamo a vedere la pagina della provincia di Teramo e del litorale. Partiamo da Giulianova. Case Ater. Volano i pannelli solari. Ancora Giulianova. Vigili in panne. La loro auto non parte. Un turista li aiuta a rimettersi in moto. E poi Giulianova. Via Topi e Serfi. Pulito il giardino. Della Villetta. Dell'Avvocato. In basso. Ci spostiamo in Val Vibrata. Partiamo da Tortoreto. Centroventi del pescato. A Tortoreto esultano i produttori locali di Vongole. Alba Adriatica. Strisce blu. Tedesco multato. Il comune dice cartelli a norma. Siamo arrivati allo sport anche in questo caso. Dobbiamo andare a vedere invece le pagine del quotidiano La Città. Vediamo di recuperare la terza pagina. Eccola qui. Si parla di protesta dei balneatori contro la legge Bolkstein. Iniziativa negli stabilimenti abruzzesi della Sib Commercio. In vista della scadenza della proroga alle concessioni. Poi Chieti cronaca picchia la moglie perché non gli stirava i boxer. E poi le indagini vanno avanti per lo stupro alla stazione di Pescara. Secondo la polizia la donna sarebbe stata stordita dall'alcol prima di essere aggredita dal 61enne senegalese. Proseguiamo. Teramo cancellato il rally d'Abruzzo. Vincoli insuperabili. E poi in basso invece parliamo ancora di auto perché nel weekend il rally dell'amicizia con la carovana delle Porsche sarà un tour non competitivo a scopo benefico per la ricostruzione di una scuola distrutta dal terremoto. Su questo avvenimento, su questo evento possiamo andare a vedere dunque il servizio che è stato curato da Tania Bonnici Castelli. Dal 31 agosto al 2 settembre gli abruzzesi potranno ammirare da vicino modelli che hanno fatto la storia di Porsche, casa automobilistica tedesca, grazie al rally dell'amicizia organizzato dal Porsche Club ufficiale Abruzzo Molise. Un viaggio di tre giorni attraversando il parco del Gran Sasso e i monti della Laga. Tre giorni di Porsche e di amicizia come seguito del rally interclub dello scorso anno, anche quest'anno 32 equipaggi dalla Slovenia e dal nord-est d'Italia. Abbiamo organizzato per loro una kermess turistica perché si chiama rally ma in realtà è un tour turistico. Da Giulianova per Castelli, Bivio Rigopiano, Campo Imperatore, Lago di Campotosto, Piazza Martiri a terra, le colline vibratiane attraverso Colonnella, Controguerra, Torano per Villaricci e poi Civitella del Tronto per la visita alla fortezza di Civitella. Quindi conoscenza, come dicevo prima, natura, cucina e benessere della nostra terra. L'obiettivo del rally dell'amicizia Porsche è duplice, mantenere alta l'attenzione sulle regioni del centro Italia, distrutte dal sisma e onorare il progetto Cuore d'Italia per revitalizzare le zone colpite anche con raccolta fondi. Il territorio della provincia di Teramo credo che sia tra i più belli d'Italia. È una bellissima iniziativa, manifestazione. Quando il presidente di Felice molti mesi fa mi aveva detto di quest'idea, io l'ho sposata subito, l'ho raccolta subito. È un bel veicolo di pubblicità ed è un bel veicolo a favore per il turismo e per gli operatori economici. Non c'è veramente modo migliore se non quello di utilizzare in senso buono il nostro territorio e quindi questo rally ci permette assolutamente di fare tutto questo, ci permette di attraversare la provincia di Teramo dal mare sino alla strada dei parchi, quindi ai monti per giungere in un'altra provincia che è la provincia dell'Aquila. Ci permette di attraversare borghi suggestivi, di avere un panorama mozzafiato come solo quello della provincia di Teramo che possiamo seddare, di degustare prodotti tipici dei nostri territori e quindi diciamo che tutti questi elementi insieme non possono che essere un menù vincente. Il Comune pensa ad un piano degli alberi, siamo a Teramo dove per ripetuti abbattimenti d'emergenza l'assessore di Buonaventura coinvolgerà l'ordine degli agronomi e poi disagi al traffico, circonvalazione Spalato, cantiere infinito stavolta per gli asfalti. Andiamo a vedere la prossima pagina, scuola esplosa, l'unico condannato chiede appello, la difesa presenta il ricorso e poi disabili, ancora troppe barriere nelle città del Teramano, lo dicono gli architetti. Andiamo a vedere un'altra pagina del quotidiano La Città, sale slot entro novembre, cambierà tutto in vista delle scadenze e delle licenze. L'assessore ricorda ai gestori le nuove norme di contrasto alla ludopatia. Proseguiamo con un'altra pagina del quotidiano La Città, ci spostiamo in provincia, la ricostruzione è ancora troppo lenta, i consiglieri di Montorio avanti insieme attaccano l'amministrazione e sperano nella prossima cabina di regia. Un'altra giornata di passione ieri per le code in A14, file di 17 chilometri per i lavori in galleria dopo l'incidente di sabato. Siamo in Val Vibrata, topo da spiaggia bloccato e arrestato grazie al bagnino Arturo a Tortoreto e poi guidatore indagato per omicidio stradale, vedete questo titolo, va avanti l'inchiesta per lo schianto mortale di domenica scorsa a Martinsicuro. E i basisti di Tortoreto ottobre davanti al giudice, banda della marmotta, l'avvocato pronto a chiedere la revoca della misura cautelare. Proseguiamo e andiamo a vedere la pagina di Giulianova e Mosciano, superstrada in tilt per un tamponamento, incidente sulla bretella di Mosciano, causa la chiusura della Teramo Mare. E poi Giulianova, ex Sadam, anche i comitati chiedono partecipazione sulle scelte già prese. E poi in basso torniamo anzi a Giulianova, un evento a sostegno dei soccorritori di Genova questa mattina all'hotel Baltic di Giulianova. Siamo alla pagina di Roseto, Pinetro, Ati e Silvi, partiamo da Atri, Abruzzo Civico, boccia i primi due mesi della giunta Ferretti. E poi un autunno carico di opere pubbliche, siamo a Roseto, questa mattina riapre il cantiere per completare la pista ciclo pedonale. In basso, Pineto, a Villa Filiani, la mostra dedicata a Frida Calo. Proseguiamo con un'altra pagina, quella della cultura, fumetti d'autore sul calendario della Polizia per l'edizione 2019, scelte 12 tavole di altrettanti maestri italiani. Siamo arrivati così alla pagina sportiva, possiamo ripartire dal centro. La prima pagina dello sport vede l'intervista all'ex difensore del Pescara Ubaldo Righetti, che parla anche di calcio di Serie A, che punge Spalletti, deve gestire se stesso, dice Righetti. E poi la Serie A, perché si è giocato ieri sera il posticipo del massimo campionato, quanta sofferenza per la Roma, pari in rimonta per i giallorossi. 3-3 il risultato finale. E poi l'Inter subito in crisi, Spalletti come Deber, Andanovic contestato. Siamo alla pagina che riguarda la Serie B. Il Pescara dopo il pareggio all'esordio a Cremona, Grinta, Corsa e Cavala. Balzano si è ripreso il suo Pescara tra i migliori in campo a Lozzini. Il terzino è tornato quello di un tempo, grazie al suo numero 14. Buon inizio, dice Antonio Balzano. E domenica prossima ci sarà la prima casalinga del Pescara, allo stadio Adriatico. C'è il Livorno e Bruno sfida il suocero Sebastiani, il centrocampista dei Toscani, Alessandro Bruno, ex Delfino, e il marito della figlia del presidente del Pescara. E poi vediamo il posticipo di ieri sera per la prima giornata del campionato di Serie B. Lecce vicino al colpo a Benevento. Coda evita il K.O. dal dischetto. Pensare che il Lecce era in vantaggio per 3-0. È stato poi raggiunto dalla formazione campana nei minuti finali. Vediamo anche la Serie C. Il mercato, il Teramo, Amadio Albivio, Vitale aspetta la firma. Il mediano può restare se rinnova il contratto, altrimenti rischia di finire in tribuna. L'ex terzino del Pescara è alla finestra. Ferretti forse ceduto all'estero. E parliamo del Giulianova e soprattutto del suo attaccante Torzi Borsoi. A 39 anni vivo di stimoli. L'attaccante dei giallorossi. Ogni estate penso di smettere. E poi vado avanti. Suo il gol sul rigore che ha permesso ai giallorossi di superare il turno di Coppa con il notaresco. Parliamo dell'Aquila. Su il sipario in attesa della categoria. Allenamenti al via per il rosso-blu. Cappellacci, il tecnico dell'Aquila, entusiasta, pronto a tutto. Però meglio in eccellenza. Rugby. L'Aquilano-Cerasoli riparte da Avezzano. La seconda, terza linea, classe 1984, scende in B dove ritrova Rotiglio e Troiano. In alto, Podismo-Ciommi vince il diciottesimo Voltigno in Corsa. E poi Beach Volley. L'Abruzzo parte col pieno di successo al trofeo delle regioni. Vediamo poi in basso una notizia che riguarda l'atletica. Tutto pronto per il Città dell'Aquila. Sabato la terza edizione del meeting. Poi tennis, migliorati e rossi, si impongono a Celano. Vediamo poi l'inserto che riguarda il calcio dilettanti. Perché come detto in precedenza, proprio in apertura di questo appuntamento con Mattino 6, domenica partiranno i campionati dilettantistici di eccellenza e promozione. Si partirà, e questa è la novità, con la diretta streaming. Vediamo anche il calendario con la prima giornata di campionato. Tra l'altro possiamo vedere, grazie a questa grafica, anche le partite del primo turno. Domenica 2 settembre si giocheranno Alba Adriatica-Cupello, Chieti-Martin Sicuro, il Delfino-Flacco-Porto-Capistrello, Nereto-Pontevomano, Paterno-Nero-Stellati-Pratola, San Buceto-Angolana, Spoltore-Penne, Torresia-Miternina, Acqua e Sapone, Miglianico. Dunque questo il quadro della prima giornata di eccellenza. Vediamo anche il campionato di promozione, che però partirà il 9 settembre, dunque la domenica successiva. La prima giornata, Gironea-Angizia-Luco-Tossicia, Castelnuovo-Borgo-Santa Maria, Fontanelle-San Gregorio, Montorio-Santomero, Mosciano-Torninparte, Mutignano-Morrodoro, Santegidiese-Rosetana, Piano della Lente-Realatria, Sporting-Celano, Pucetta. Vediamo anche, visto che abbiamo un po' di tempo, anche la prima giornata del Girone B, anche in questo caso. Ovviamente il via il 9 settembre, domenica 9 settembre, Baggi-Calupo-Vasto, Scafa-Casalbordino-Sansalvo, Ortona-Ovidiana-Surmona, Passo-Cordone-Fater-Angelini, Piazzano-Fossacesi, Arraiano-Lanciano, River 65, Casolana-Sant'Anna-Valdisangro, Villa 2015-Bucchianico. Lasciamo le pagine dello sport del centro, vediamo il messaggero, Pescara riconquista il tuo Adriatico, questo è il titolo che riguarda proprio il Pescara, che domenica, come detto, tornerà a giocare allo Stadio Adriatico. Prima gara della nuova stagione alle 18, i Biancazzurri ricevono il Livorno. Intanto Sanzovini rescinde il contratto e approda al Modena in Serie D. Vedete poi in basso l'intervista all'ex Biancazzurro Gautieri, occhio al Livorno, ma che attacco il Delfino. E poi il basket in questo caso, in basso, a fondo pagina, Roseto Sharks riparte incontrando i bambini. Vediamo anche l'altra pagina del messaggero sport. Un diavolo più duttile, Zichella insegue Pillon, Rivoluzione Teramo, rinuncia all'innesto a centro campo, Ventola Mezzala invece che esterno basso e Mantini, terzino, ottimo l'esordio dei Biancorossi in Coppa. E poi si parla dell'Aquila, Rosso-Blu in campo in attesa del verdetto. Bisognerà ancora capire in quale campionato giocherà l'Aquila nella prossima stagione. Poi eccellenza, abbiamo visto prima il calendario. La prima giornata si giocherà Chieti Martinsicuro, ma non c'è l'Aquila. La presentazione del calendario. Ieri a Francavilla, al mare. In basso, due notizie. La prima che riguarda l'Atletica. Gaia Sabatini si supera e nuovo record per lei. E poi il calcio a 5. Tombesi, un piccolo gesto dalla città. Via la campagna abbonamenti della Tombesi-Ortona per la stagione 2018-2019. Andiamo a vedere le pagine dello sport del quotidiano La Città. E poi chiuderemo con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Siamo però al quotidiano La Città. Parliamo del Teramo. Mercato, ultime ore. Campitelli, il presidente, annuncia due uscite. Dobbiamo definire le cessioni di Amadio e Ferretti. Vitale. Vediamo. Dunque, potrebbero partire Amadio e Ferretti. Sicuramente più il secondo che il primo. E dovrebbe essere tesserato. L'ex difensore del Pescara, il 32enne, Simone Vitale. E vediamo poi in basso. Si parla in questo caso di atletica. Gianmarco Tamberi spinge sempre più in alto l'atletica italiana. L'Azzurro, con un trascorso nelle file della formazione della società abruzzese dell'atletica vomano, torna in quota a 2.33 nel salto in alto al meeting di Eberstadt. Andiamo a vedere la seconda pagina dello sport del quotidiano La Città. Eccola qui. Si parla del Real Giulianova. Davvero cinico e spietato. Il tecnico, i giallorossi, stallone dopo la vittoria di domenica. Siamo al 60%. Se si vince adesso, puntini, puntini. Soddisfatto, ovviamente, il tecnico. Abbiamo proposto anche ieri, nel corso dei nostri Tg, il servizio sulla partita notaresco Real Giulianova con la vittoria di misura dei giallorossi, grazie a un gol sul rigore di Tozzi Borsoia. Abbiamo proposto anche l'intervista con i due allenatori, in questo caso con il tecnico del Real Giulianova, stallone. Soddisfatto comunque per l'esordio della sua squadra in una gara che contava per la qualificazione al primo turno di Coppa Italia. A tal proposito vi ricordo che il Giulianova affronterà domenica prossima al Valle Anzuca il Francavilla. Vediamo in basso altri sport, in questo caso il pattinaggio. La bossica Martinsicuro, 5 volte sul tetto d'Europa, ad Ostenda Edda Paluzzi, Asia Varani, Michael Gatti e Alessio Clementoni non hanno deluso le aspettative della vigilia. Possiamo chiudere con lo sport regionale e passare alle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Prima di salutarci iniziamo con la gazzetta dello sport in alto, sprofondo Murigno, il Tottenham lo emilia in casa. La squadra di Murigno battuta per 3-0 a domicilio dal Tottenham. Davvero un inizio di stagione terrificante per l'ex allenatore dell'Inter. E a proposito di Inter, Spalletti, Ninja e Martello. Il tecnico striglia la squadra per 40 minuti. Mancano la fame, i leader e la personalità. Sabato con il Bologna. Ritorna Nainggolan per dare la scossa. Non è stato un avvio di campionato positivo per l'Inter. Non è stato positivo l'avvio neanche per il Milan. La svolta di Linchio dentro Cainaloglu per assistere Iguain. Spazio a Caldara nella difesa a 4. Milan reduce dalla sconfitta di Napoli. Milan che dovrà recuperare a fine ottobre la gara casalinga con il Genova. E poi Show Atalanta rimonta Roma. Vedete il titolo. Emozioni e golle, un Luna Park. Tacco di Pastore, poi Super Rigoni. Gasperini domina e va sul 3-1. Ripresa di Francesco. Cambia tutto e pareggia. 3-3 il risultato finale. Vediamo anche questa classifica, ovviamente molto parziale dopo due giornate di campionato. E tra l'altro con alcune gare da recuperare. Vedete Juventus, Napoli e Spal. Spal al comando con Napoli e Juventus a 6 punti. Sassuolo, Atalanta, Roma, Udinese 4. Fiorentina, Genoa, Empoli 3. Inter, Parma, Torino, Bologna, Cagliari, Frossinone 1 punto. Milan, Sampdoria, Lazio e Chievo. Ancora al palo. E poi i numeri delle prime giornate. Ronaldo al top, 15 tiri in due gare. Re in Europa e Cristiano Junior. Sembra papà. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport. Milano a terra. Vedete in alto perché Inter e Milan dai voli del mercato sono passate alla dura realtà del campo. E poi incredibile Roma 3-3 con l'Atalanta dopo che i giallorossi erano andati sotto per 3-1. E poi vediamo anche la prima di tutto sport. Inter e Milan arrivano i vostri. La falsa partenza delle milanesi. Da Nainggolon a Cheta a Caldara e Cialanoglu. Ecco le forze fresche per il rilancio delle milanesi. E poi Toro, i tifosi con Iaic. Non si tocca il Besiktas, formazione turca in pressing sul giocatore serbo. Ma i tifosi Granata non vogliono che il giocatore lasci Torino. E poi Cristiano Ronaldo guarda che champion. Giovedì ci sarà il sorteggio a Monte Carlo. E dunque c'è attesa per conoscere l'avversario della Juventus. Infine il titolo che riguarda il posticipo di ieri sera. Quest'Atalanta è uno spettacolo. Primo tempo travolgente all'Olimpico dei Nerazzurri Lombardi. Poi la rimonta della Roma da 1 a 3 a 3 a 3. Brutte notizie però per il giocatore della Roma Florenzi di nuovo. K.O. Siamo così giunti alla termine con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Al termine dell'appuntamento di oggi, di martedì 28 agosto con Mattino 6. Che tornerà domani come sempre puntuale alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia. Ringrazio voi come sempre per averci seguito. E vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del TG6. Buona giornata. Ringrazio voi come sempre per averci seguito. e neatl'e in światva.